Se oggi si palesasse una nuova società che può garantire, visto la nostra situazione, che può garantire un futuro migliore al Teramo, per il bene del Teramo faremmo anche un passo indietro. Nessuna resa, ma apertura a forze del territorio che possano assicurare un futuro migliore al Teramo. I cardini della conferenza stampa di Massimo Chierche di ieri sono due. L'importanza capitale che hanno i fondi sbloccati dal Tribunale, che permetteranno di concludere serenamente una stagione sportiva che adesso deve dare risposte sul campo, è appunto l'apertura al territorio. Chi si aspettava situazioni diverse, se è deluso o mi dispiace, ma oggi stiamo garantendo quello che è stato sempre criticato, la sopravvivenza del Teramo calcio. Sul mercato c'è fiducia per l'arrivo in attacco di Filippo D'Andrea. D'Andrea è solo un problema della nuova salernitana, quindi della nuova società che ancora non si capisce chi deve dare l'ok per fare le uscite. È bloccata penso da altre asti, da queste cose, ancora non è. D'Andrea, se non ci sono cose particolari, sarà un giocatore nel Teramo nei prossimi giorni. Per il resto altri introiti dovrebbero arrivare dalla cessione in prestito neroso con diritto di riscatto di Surricchio alla Roma, che sarà ufficiale lunedì. Accordo fino a giugno con la possibilità per i giallorossi di riscattare la giovane classe 2006. Ma adesso quello che conta è aver messo in sicurezza l'annata. Con Mignanelli c'è un discorso aperto, altri profili si valutano, ma secondo Chierchia la rosa è già stata rinforzata. La logica del miglioramento della squadra si può continuare anche a fare come stiamo facendo, perché secondo me già abbiamo migliorato la squadra. Entro nell'argomento, al momento sono stati acquisiti cinque calciatori dal Teramo Calcio, perché oltre ai tre appena arrivati io ricordo sempre il portiere Peruchini e Pinto. Questo non vuol dire che a fronte di qualche buona occasione il Teramo se la lascerà sfuggire. Ovviamente il Teramo Calcio ha bisogno di rinforzi, come ho detto nel discorso precedente, faremo, farò insieme allo staff e tutto quanto quello che è possibile per migliorare questa squadra. Quello che è certo è che adesso la dirigenza pretende un cambio di rotta già a partire dal match di sabato prossimo contro la Vispesaro. Sono state fatte e prese tutte le misure che la società riteneva opportuno fare. e ho invitato chiunque abbia un atteggiamento diverso a lasciare il Teramo. Chiunque non ha voglia di stare a Teramo può andare via senza nessun problema.